Mi ami? Sì, ti amo. E tu? Che devi fare? Delle cose. Io vado. Pronto? Con chi eri al telefono? Era François. Mi ha proposto di lavorare nella sua agenzia. Ho amato moltissimo, François, lo sai. La mia storia con lui è finita. Devi stare tranquillo. Io sto tranquillo. Cazzo! La mia storia con lui è finita. La mia storia con lui è finita.